ma leonardo buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno a te giorno 6 calimea calimera calimera leonardo allora giorno 6 giorno 6 tempio di demetra forse ce la facciamo dovremmo farcela salvo cani liberi da salvare ecco io non ne salvo eh ti lascio lì ok quindi ora tempio di demetra e poi vediamo sulle collinette quindi saliamo un po come siamo saliti per cialchio e filotti e poi vediamo perfetto ok ciao 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 siamo davanti all'ingresso del tempio di demetra ora leonardo ci spiegherà chi era demetra allora demetra io non lo sapevo perché come dicevo cristian pensavo che erano tre fratelli i figli di crono quindi poseidone zeus e ade invece leggendo su internet abbiamo visto che anche lei era sorella di zeus era sorella di zeus quindi figlia della madre terra e del titano crono questo è un tempio dedicato a lei dedicato comunque poi si cercheremo più informazioni riguardo assolutamente sappiamo che la dea dell'agricoltura dell'agricoltura esatto l'abbondanza quindi del cibo sicuramente e adesso vediamo un po se troviamo qualche scritto dentro da avere qualche informazione in più in più perfetto bella lì Grazie killed su po Leonardo, le prime informazioni che hai catturato? Siamo arrivati qua, ho scritto qua, no, a poche parole dice, vabbè, molto antico, parliamo di più di duemila anni fa, era praticamente la loro chiesa, perché poi cos'è successo, no, che è arrivato il cristianesimo, allora ci hanno fatto quello, ma se no loro venivano a pregare qui, allora poi sono arrivati i cristiani e ci hanno fatto quell'arrivo, perché volevano non mantenere il posto, perché qua c'è servizio che è un posto statentico, perché hai la vista un po' su tutta la valle, no? E allo stesso tempo si riunivano tutti quelli intorno per venire diciamo a onorare Demetra, vedi che c'è proprio una vista, è una più centrale della valle, non ci siamo tutti qua. Dovrebbe essere l'entrata, esattamente, c'era scritto. Ragazzi parliamo dell'ottavo secolo avanti Cristo, l'ottavo secolo avanti Cristo vuol dire settecento anni prima che nascesse Gesù, quindi esattamente 2723 anni fa. Mamma mia buona, cioè una cosa ragazzi, cioè, tutto fatto a mano. È liscissimo. Cioè qua è tutto piccolamente, cioè va che roba. Non capisco se è l'acqua o non penso, qua secondo me è proprio scalpello e duma, eh. Sì qua ti fa vedere com'era. Era proprio intero questa. Ah. Non è come l'ha la portata da poi. Sì qua ti fa vedere com'era. Era proprio intero questa. Ah. Non è come l'ha la portata da poi. Cioè adesso non so se si vede dalla telecamera, perché l'immagine è un po' sfocata, ma c'era proprio anche il tetto. C'erano i muri laterali con tutte le colonne, diciamo, ad entrare. Si può vedere anche da questa immagine qua. E poi purtroppo col tempo, e non solo il tempo perché leggevo che sono stati anche i romani, ce l'hanno abbottuto. Purtroppo, quando arriva un'altra religione, la religione passata la distrugge. No, va bene, è una vacanza. Sì. Eh, abbiamo qualcosa da fare molto da vacanza. Esatto, è un po' triste, però è davvero... ... ... ... Quasi si va... Adesso può arrivare a una foto Questa è un tirapelli che hanno trovato lì vicino Questa è un pò che stai Questa è un pò che si fa Questa è un pò che si va Qua dite che nel VI secolo a.C. L'imperatore Giustino l'ha demolito praticamente perché loro ovviamente cambiavano il chistianesimo e non volevano i loro dei quindi l'ha demolito e ci hanno fatto quella piccola cappelletta e questo è diciamo il basamento del tempio di Devo. Esattamente, è stato l'imperatore Giustino. Leonardo! Non te l'ho visto? Ah ma sei in macchina anche te? Sì! Ah ma siamo in due, lo pensavo di essere da soli. Abbiamo visto il tempio di Demetra. Adesso dove stiamo andando? Adesso ci dirigiamo al paese di Apirantos che rimane anche lì sulle colline quindi al centro dell'isola però passeremo per Filotti. Chi sa perché passeremo per Filotti? Chi sa? C'è Cristian che dice che vuole passare lì e che ci tiene a prendere un caffè. Non so cosa l'ho dire. Chi sa? Chi sa? Vedremo. Vedremo l'idea. Tanta pensa la registrazione di un portale. chi sa? Chi sa? Chi sa? Chi sa? Chi sa. Chi. Sveglosa. Chi. Chi la 50 autristi. Chi... Grazie a tutti.